Ecco, è l'anno in cui sono saltate o quanto minimo sono state umiliate tante tradizioni, tante abitudini e questo direi vale un po' alla luce di tanti mesi che stiamo vivendo dentro questo dramma del Covid, però penso soprattutto a questo tempo di Natale, tempo di Natale che aveva le sue belle caratteristiche, le sue storie, le sue tradizioni e se andiamo sia nella città come nei paesi di montagna, veramente il clima e il contesto è completamente altro. E allora possiamo chiederci Don Riccardo, questo cambiamento di situazione che in fondo ha imposto anche abitudini nuove, modi di fare non previsti eccetera, non può aver giovato un po' anche a togliere quella polvere che inevitabilmente su tutte le abitudini, anche quelle buone, rischia un po' di depositarsi. Cenone, bisogna fare cenone, allora poi tutto a trappolare lì perché questo sì e questo no si può invitare l'amico, il parente eccetera. Pure nella nostra vita di Chiesa, certe tradizioni come le processioni per esempio, ecco il fatto di aver dovuto sospendere queste abitudini potrebbe e magari alla luce dell'esperienza che hai vissuto anche tu in questo tempo del periodo qui di Natale, potrebbe anche aiutare a recuperare in prospettiva il senso di quello che forse ci portavamo dietro un po' proprio in modo abitudinario, cioè questo momento qui, come si usa dire, può essere un'opportunità anche riguardo alle cose che ordinariamente facevamo e che in questo periodo invece non l'abbiamo potuto fare. Ma senz'altro, ti dirò Don Leone, io sono sempre un po' allergico a quelli che di fronte a ogni difficoltà dicono no ma questa difficoltà è un'opportunità perché non è che dobbiamo sempre aspettare di picchiare via la testa per dire che sia un'opportunità, però sicuramente questo obbligato, dover rinunciare a tante cose o sospendere tante altre cose, ma dico magari anche in positivo, da come lo dicevi tu sembrava quasi che dire certe cose non sono più necessarie, le teniamo in piedi proprio solo, non dico per il gusto dell'antico ma perché magari non sappiamo che cosa fare altrimenti e magari questo, dover rinunciare a qualche cosa, penso soprattutto alle cose di chiesa e non a tutte le ritualità belle ma non così necessarie. Magari in tanti hanno fatto emergere anche il fatto che nonostante sembrassero magari delle cose vecchie o non così significative invece diventano ancora qualche cosa che si rimpiange proprio perché ha una valenza positiva, insomma. Non lo so, penso ai cortei anche solo per i funerali, no? Tante volte si dice ma siamo nel terzo millennio, non si può tenere in ballo sulla pubblica strada eccetera eccetera e poi quando sei obbligato a non farli magari dici però che gesto bello porta dentro anche questo camminare insieme portando una persona alla chiesa, portandola alla sepoltura. Ecco, ti fa dire che comunque ci sono anche delle cose belle che magari abbiamo dato per scontato e adesso che non ci sono più magari ci mancano anche un po'. Beh in effetti anche questo tempo di Natale, il fatto che non si è potuto anche nelle famiglie allargare come si usa dire la mensa, ma ci si è ritrovati un po' più nella intimità e penso proprio anche al Natale stesso, cioè in fondo ecco inevitabilmente è stato contornato di meno cose, di meno iniziative. Non so se hai avuto anche tu l'impressione incontrando la gente, celebrando appunto le messe di Natale e così via, che forse effettivamente magari si è arrivati un po' di più alla essenzialità del Natale, a ripercepire quello che è il messaggio di questo evento. Presi forse appunto meno da tante altre cose che rischiavano anche un po' di portarci fuori, di esteriorizzare anche il Natale, forse, non lo so la tua impressione, quest'anno ecco il toccare meglio il cuore di questa festa e di queste giornate. Ma senz'altro Don Leone, se pensiamo anche che, almeno qui nei nostri paesi, ho visto anche tanta obbedienza comunque a tutte le norme che c'erano, insomma non ci sono viste delle stonature, se vogliamo non dico l'unica cosa e quindi ci si è buttati tutti su quello perché altrimenti uno doveva rimanere in casa. Però di fatto, oltre alla dimensione familiare, che quella va benissimo, ma quella riguarda un po' tutti i giorni, forse l'unico segno anche che ti diceva del Natale era poter partecipare alle celebrazioni. È sempre stato così per l'amor di Dio, però c'erano magari anche tante manifestazioni non necessariamente religiose in cui uno magari poteva fermarsi lì. E quindi sicuramente penso che magari liturgie comunque preparate, ben curate, con la partecipazione saggia di quelli che potevano dare una mano per curare anche il bello delle celebrazioni, senz'altro sono state qualche cosa che ha dato un po' un respiro anche di speranza a giorni che altrimenti sarebbero stati ancora davvero tristi come la Pasqua che abbiamo trascorso, insomma dove la celebrazione, per quanto magari condivisa attraverso i nuovi strumenti di comunicazione, però effettivamente c'è mancata la partecipazione delle assemblee che non sono assemblee virtuali ma sono assemblee vere perché appunto il cammino di fede non è un cammino virtuale ma è un cammino bello e quindi credo che almeno in questo Natale questo non è mancato e non è poco. Consolto. Ecco come dice il poeta fuori dal groviglio delle strade forse abbiamo recuperato qualche radice in più diciamo e questo ci fa anche sperare perché come dice ancora il poeta l'albero non gela perché le radici tengono e sotto terra sono pronte a farli esplodere un po' anche la primavera e quindi questo diventa anche un motivo così di fiducia, di speranza, questo fatto appunto di aver ripreso, aver recuperato delle buone radici che fanno parte anche della nostra storia, certo della nostra storia di fede, il Natale percepito per quello che effettivamente è ma anche direi quelle buone radici di vita relazionale appunto di vita comunitaria che magari un tantino stanno come le radici appunto sotto terra ma che faranno fiorire senz'altro e ce lo auguriamo frutti nuovi nella primavera che ci aspettiamo effettivamente. Una cosa però che volevo chiederti di queste giornate Don Riccardo, abbiamo passato l'ultimo dell'anno, l'ultimo dell'anno anche questo è diverso, noi come cristiani in genere è l'abitudine nell'ultima liturgia di cantare il Tedeum. Tedeum è un canto, lo conosciamo tutti, almeno il nome, che sa di ringraziamento, di fatti in certe occasioni, solenni anche della storia, ci si convocava per cantare il Tedeum di ringraziamento, dentro certi momenti della vita di chiesa, quando per esempio il parroco va via, no scusate, quando il parroco arriva si canta il Tedeum, a volte anche quando va via magari per carità, ma alla fine dell'anno il canto del Tedeum di ringraziamento. Don Riccardo quest'anno aveva senso, ha avuto senso cantare il Tedeum o forse anche qui quest'anno ci è stata offerta l'occasione per capire il senso vero anche del ringraziare, il senso vero del cantare il Tedeum nonostante. Ma certo, un po' provocatoriamente, avevo detto anche alcuni preti, ma quest'anno non siamo dispensati dal Tedeum, nel senso cosa dobbiamo ringraziare, che cosa che è stato davvero un anno faticoso sotto tanti aspetti. Però ecco, al di là di tutto, credo che non è che dobbiamo limitare il Tedeum a dire Signore ti ringraziamo perché siamo qui ancora, se siamo qui vuol dire che non siamo morti e quindi siamo contenti perché ci ha accompagnato e non siamo morti. Cosa vuol dire? Che quelli che sono morti non c'era il Signore. Quindi vedi che se pensassimo solo che il Tedeum è quello per dire a me la scampara anche stan, grazie Signor, effettivamente sarebbe un po' pochino e non avrebbe neanche un respiro cristiano, insomma, lo diciamo sempre, ogni nostra liturgia è sempre protesa verso quell'eternità che è il dono più grande di salvezza che il Signore ci fa a coronamento di una vita vissuta insieme con Lui. Ecco, quindi io penso che il Tedeum sia proprio quello di fermarsi un attimo alla fine, quando appunto umanamente siamo soliti fare un po' i bilanci, no? Quando qualcosa finisce per dire cosa è andato, cosa non è andato. E forse la cosa più bella è stato l'ultima sera dell'anno dire grazie, nonostante le fatiche, nonostante un anno fa nessuno poteva immaginare una cosa così drammatica e un anno così particolare sotto davvero tantissimi punti di vista. Io penso, ho cercato di mettere dentro un po' questo del Tedeum che abbiamo pensato un po' anche per le nostre tre parrocchie, il ringraziamento per quello che il Signore ha saputo suscitare di bene, nonostante le tante difficoltà, dalle nostre comunità. Ma anche al di fuori dalle nostre comunità penso appunto a quelli che non hanno cercato di salvare la propria pelle e poi chi si è visto si è visto, ma si sono sentiti chiamati a vivere anche una prossimità, una fraternità anche in una situazione abbastanza rischiosa. Non è qualche cosa di bello, non è qualche cosa che profuma l'Evangelo e di cui dire grazie al Signore. Ecco, il ringraziamento anche sicuramente per quei momenti che il Signore avrà vissuto nell'intimo di ciascuna persona, anche di ogni persona che magari è arrivata alla fine della sua vita, anche in queste situazioni, in quella situazione così drammatica di solitudine che è stata vissuta e magari è vissuta ancora un po' anche in questi tempi. Ecco, come non pensare che il Signore sia stato presente vicino a tanti e quindi la gratitudine di dire Signore, ecco siamo certi che non hai lasciato soli questi nostri fratelli che noi magari non potevamo avvicinare per tanti motivi e quindi penso che alla fine il ringraziamento sia per il dire Signore ti ringraziamo perché in questa nostra storia tu sei presente, non sei poi così lontano, ma ci sei dentro. Interessante, questo è importante, il tedeum non necessariamente perché tutto è andato bene, altrimenti non lo potremmo mai cantare, non potremmo mai dire un grazie, ma perché sappiamo che il Signore conduce al bene, ci aiuta ad abitare con coraggio e con forza ogni situazione perché è con noi e ci accompagna. In fondo poi il Natale è Dio che si fa uomo, che entra nella nostra storia, che condivide il nostro vivere, il nostro soffrire, anche il nostro morire, ma ci apre anche alla certezza di una luce, ci apre alla certezza di una vita che va a compiersi e non va definitivamente a finire. Quindi è la gratitudine per una storia di salvezza più che per le cose concrete e singole dove effettivamente possiamo trovare anche dei motivi dove la gratitudine ci tornerebbe difficile. Si chiude l'anno, si è aperto l'anno nuovo, un anno nuovo come al solito, gli auguri eccetera si sprecano, speriamo, quest'anno poi molto di più, speriamo che le cose cambino e ce lo auguriamo veramente tutti. Questo però fa pensare un po' a questo inizio. Il Vangelo di questa domenica che riporta Giovanni, San Giovanni, parte proprio con quell'espressione, in principio. Ecco, l'iniziare un nuovo anno può essere interessante proprio anche per raccordarci a quelli che sono gli inizi dentro la storia del mondo, ma anche dentro la nostra storia di salvezza. In principio, all'inizio del libro della Genesi, quando siamo addirittura in quel fuoritempo che è di Dio, perché il tempo potremmo dire non c'era ancora, in principio. Ecco, forse è bello raccordarsi, anche per respirare un po' fiducia e speranza, a quell'inizio della vita e della storia che possiamo un pochettino rileggere all'inizio di ogni anno. Ma certo, giustamente tu vai all'inizio della Bibbia, in principio Dio creò eccetera, ripreso poi dall'inizio del Vangelo di Giovanni, in principio era il verbo, quindi era Gesù stesso, era la sapienza di Dio, era la parola di Dio, ma credo anche Don Leone pensare alle ultime parole dell'Apocalisse, come si finisce la Bibbia, Amen, vieni Signore Gesù. Ecco, in principio c'era il verbo, c'era Gesù, alla fine di tutto Amen, vieni Signore Gesù. Ecco, quindi allora potremmo dire che la fine va comunque a rimettersi dietro l'inizio, insomma, e tutto diventa profondamente sensato. Ecco, che bello se allora all'inizio del nuovo anno siamo capaci, magari anche dopo questo digiuno di tante cose dell'anno precedente, di questi mesi, anche che probabilmente inizieranno questo nuovo anno, se riusciamo a rimettere un pochino le cose al punto giusto, insomma, e non lasciare il Signore in qualche angolo della vita o lasciare lui qualche briciola del nostro tempo, ma dire ecco, rimettere il Signore al primo posto, che non vuol dire poi mortificare nessuno degli altri, perché mettere il Signore al primo posto, ecco che tutto poi prende la sua posizione giusta e ti rendi conto anche che il tuo rapporto con gli altri, il tuo stare insieme agli altri diventa più sensato. Inizio del nuovo anno, raccordo con l'inizio della storia, ma c'è anche un altro Vangelo che parte così, è proprio il Vangelo di Marco, quello che stiamo leggendo in genere in questo anno liturgico, dice proprio così, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, anche qui è come in principio, non è il principio originale, originario, diremmo meglio, ma forse è un capitolo nuovo che si inserisce nella storia ed è quello di cui stiamo parlando in questi giorni, di cui abbiamo celebrato appunto nel Natale e che appunto Marco sintetizza in quel termine inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Credo che ci sia dentro qualcosa di bello e di importante anche in questo inizio nuovo di un capitolo diverso della storia che si raccorda con quello primordiale e che poi va a compiersi, come tu dicevi, addirittura in quell'amen finale dell'Apocalisse. Certo, anche perché Marco, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, eccoci, ti dice già qual è, potremmo dire, la finale del libro, non è che ti rovina la lettura perché quello non è un romanzo ma è la testimonianza di fede e quindi riconoscere il Signore Gesù come figlio di Dio, quindi come il Salvatore della storia, quindi come il Messia, vuol dire già mettere le cose al punto giusto e vuol dire poi respirare in ogni gesto che il Vangelo ci dice, ma non solo quello che il Vangelo ci dice ma anche in ogni momento del Vangelo che siamo chiamati a scrivere anche noi, anche se non lo scriviamo con la carta e la penna, ma lo scriviamo sulle righe della nostra vita, insomma se ci pensiamo che il Signore Gesù è presente nella nostra vita, che ama entrare nella storia, che entra in relazione con noi, ci rendiamo conto che siamo chiamati anche noi a scrivere il nostro Vangelo di testimonianza, essendo testimoni di quello che il Signore va compiendo nella nostra vita. Tanto interessante perché inizio del Vangelo, che qui recuperiamo questa parola che non diventi troppo abitudinaria, senza senso, perché Vangelo vuol dire buona notizia e anche questo direi è tempo di respiro buono, è qualche dentro le realtà non sempre facili della vita, inizio del Vangelo, la buona notizia che Gesù Cristo è e ha portato e che continua a portare. E Don Riccardo, allora questo dei capitoli che sono sempre un inizio, un rinnovarsi della presenza operante e salvifica di Dio forse può far pensare, ma è bello che ce lo diciamo anche per noi, che qualsiasi vita può trovare sempre un nuovo inizio e che probabilmente nel Vangelo e nel volto e nella parola di Gesù Cristo tutti possiamo trovare, anche se a volte rischiamo di essere precipitati un po' nella speranza, nella fede, nella carità, nella fiducia della vita, ritrovare sempre un buon inizio proprio attraverso Gesù Cristo. Certo, tu saggiamente hai citato le tre virtù teologali, no? Fede, speranza e carità. Appunto la scrittura, il Nuovo Testamento, San Paolo ci ricorda che la più grande di tutte è la carità perché fede e speranza sono delle virtù che vengono da Dio ma che servono qui finché siamo su questa terra. La carità invece sarà anche nell'aldilà perché sarà la pienezza della carità. Però come non vedere il nostro tempo un po' povero di speranza e quindi come non vedere che il Vangelo diventa proprio questo annuncio che c'è sempre possibilità di un nuovo inizio e la speranza allora è anche quella virtù di chi in qualsiasi stagione della vita, forse anche a 120 anni e sa che ormai sta per tirare le cuoia qui su questa terra, ecco tu sai che hai davanti qualcosa di bello e la speranza quindi è questa volontà di andare avanti con determinazione, oserei dire anche con sorpresa, con attesa perché appunto non è che pensi che le cose belle ormai sono passate quindi tu ti condanni a vivere una vita quasi in bianco e nero senza più i bei colori dell'esistenza ma sai che hai davanti qualcosa di grande e di bello e questo è il motivo anche per andare avanti per superare tutte le fatiche e le difficoltà e magari per piangerti un po' di meno addosso e per essere più coraggioso e capace anche di portare un po' di benessere e un po' di generosità agli altri. Quindi il cristiano non è l'incorreggibile, è un po' anche stupido ottimista perché il cristiano legge la storia con realismo però è colui che non è mai carente di speranza proprio perché la speranza non nasce dentro di lui semplicemente, non viene raccolta semplicemente sui mercati umani della storia ma questa speranza è soffio dall'alto di quel Dio che in principio e poi da nuovo inizio e sempre quindi entra nella storia per farci respirare, una speranza vera ben fondata su di lui. Chiudo semplicemente perché il tempo se n'è andato con quella invocazione, quella preghiera, quella benedizione che abbiamo ascoltato il primo giorno dell'anno, bellissima, il Signore ti custodisca, ti protegga e ti benedica, faccia splendere il suo volto su di te e ti dia pace. Ecco mi pare che se dobbiamo farci o rinnovarci un augurio per questo anno che sta iniziando credo che lo possiamo raccogliere qui per noi, per essere anche capaci di questa benedizione da allargare sugli altri perché questo è il nostro compito, di essere collaboratori della fiducia, della speranza anche dei fratelli. Ti benedica, faccia splendere il suo volto su di te perché non ci sia buio, non ci sia paura e ti dia pace, quella pace che è la pienezza di ogni bene anche dentro i percorsi faticosi, a volte drammatici della vita. Questo è il buon anno che auguriamo ovviamente al nostro Riccardo, ringraziando della sua testimonianza, che auguriamo agli amici qui di Antenna 2, che auguriamo a voi che ci seguite in questa nostra rubrica e che attraverso di noi vorremmo un po' allargare a tutte le nostre comunità e anche più in là. Quindi dirci buon anno, abbiamo già girato mi pare la faccenda dicendo anno buono nonostante nel Signore. Auguri.